Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 31 marzo 2016. Benvenuti, questa è Fano TV, canale 17. Occhio ai giornali, che come sempre si apre con il santo del giorno. Vediamolo subito, oggi è San Guido di Pomposa, stiamo parlando di un santo legato all'epoca d'oro dell'Abbazia di Pomposa, nato verso la metà del X secolo nei pressi di Ravenna. Questo Guido, discendente da nobile famiglia, in giovanità vendette tutti i suoi beni, li distribuì ai poveri, poi prese l'abito dei penitenti e si mise in viaggio verso Roma. Ok, il sole è sorto alle 6.50, tramotterà alle 19.34, vediamo invece adesso il tempo. Allora, il tempo più o meno sarà così anche nei prossimi giorni, forse si guasterà nella giornata di domenica, avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Questa è la giornata del primo di aprile e questa invece è la giornata di sabato 2 di aprile, con temperature ancora in lieve diminuzione. Dicevo che probabilmente il tempo si guasterà nella giornata di domenica. Andiamo a vedere i giornali, anche oggi il messaggero è in sciopero, perlomeno nell'edizione che noi dobbiamo scaricare al mattino presto per l'online. Anche oggi c'è la scritta che appare in rosso e che a causa di uno sciopero l'edizione di oggi, odierna, così come quella di ieri, non è disponibile. Allora, andiamo, dicevo, a leggere comunque il resto del Carlino ed il Corriere Adriatico. Il Carlino di Pesaro, questa è la prima pagina, guardatela, eccola qua, la foto è per le notti in musica e l'annuncio del sindaco Ricci che vuole allungare gli orari per l'ascolto musicale sin dal mese di aprile, un'ora in più nel fine settimana in tutta la città. Poi spunta un progetto invece per l'ospedale nuovo, l'ospedale unico, e spunta un progetto per l'area di Chiaruccia a Fano, presentato dal sindaco Massimo Seri al presidente della regione Ceriscioli, sarebbe questo progetto di un gruppo australiano. E sempre Matteo Ricci invece, tornando a Pesaro, tra Fano e Pesaro, la città che pedala, il sindaco programma due bike grill nella zona del mare. Poi ricorderete il falso o il vero Leonardo, ebbene secondo la procura va confiscato perché basta l'antichità della tela, 50 anni bastano, gli esperti possono attendere. Adesso le pagine interne, dicevamo la pagina di Fano con la notizia dell'ospedale a Chiaruccia. Spunta questo progetto, Massimo Seri parla di un gruppo internazionale interessato, il sindaco lo ha rivelato ai suoi, ma dalla regione non confermano. Ieri c'è stato un incontro tra il PD e Ceriscioli per la modifica della delibera, c'è il nodo del project financing. Poi l'opposizione invece con del vecchio dell'Udc che propone due nuove strutture, raccolte intanto 200 firme per il referendum. Questa è la pagina di Fano del resto del Carlino. Sulla sicurezza, polizia senza uomini né mezzi, siamo sempre sulla pagina di Fano. Il sindacato SAP lancia l'allarme al ministro che è atteso domani al Fano. Agente e politico digiunano insieme in segno di protesta. I numeri parlano chiaro, parlano di un organico fermo all'89 con 40 agenti e metà con la media di 48 anni, una sola volante in servizio. Questi sono i numeri. Questo teatro invece, teatro di Fano, ci porterà a fortuna. Sabrina Impacciatore sul palco nei panni della sedutrice di Ives. Domani c'è l'anteprima nazionale di Venere in Pelliccia. L'attrice parla e dice il testo mi piace molto perché la donna è descritta in tutta la sua complessità. E dal teatro al campo di calcio per la partita del cuore. Moreno e Briga dal rap al calcio. Anche Mattia Briga ha scelto l'evento fanese per il suo debutto nella nazionale Cantanti. Affano per la vita scenderà in campo con il numero 89, il rapper secondo classificato ad amici di Maria De Filippi lo scorso anno. Buche, strettoie, niente segnali. A San Costanzo un comitato si appella al prefetto. Strada delle Grazie a Ponterio praticamente a pezzi. Altola alla provincia. C'è questa denuncia. La strada è stata rattoppata ma la maggior parte del fondo è rimasta in condizioni praticamente disastrose. Mentre un po' più là possiamo riparare la frana. Rispondeteci. C'è amarezza dalla LC Mobili che ha chiesto al Presidente Tagliolini appunto di sistemare questa strada. Tagliolini lascia cadere l'offerta. Vedete quali disagi e pericoli in questa fotografia pubblicata dal giornale causa questa frana che è all'ingresso del paese appunto di Isola del Piano. E adesso andiamo sul Corriere Adriatico. La pagina di Pesaro, anche qui l'annuncio del sindaco Matteo Ricci per i giovani garantisce più sport e musica. Il sindaco annuncia uno skate park e bici grill. Sono stati prolungati anche gli orari dei locali. Un incontro che c'è stato tra Ricci e il consigliere Perugini al GRA, nuovo impulso alla rete delle piste ciclabili. Domani, anzi oggi e anche domani, ma sono due giorni in cui faranno tappa due ministri, Giannini e Alfano. Oggi a Urbino il ministro dell'istruzione, università e ricerca, che farà tappa poi anche al museo del Bali di Saltara. Domani invece a Fano toccherà al titolare del Viminale. In Ateneo con il governatore Ceriscioli, il sindaco Gambini e i parlamentari Marchetti e Fabri. La pagina di Fano invece. La fila al banchetto in corso Matteotti per Fosso Segiore. Parte bene la raccolta di firme per il referendum, ma oggi l'attenzione si sposta sulle mozioni consigliari. L'iniziativa di partecipazione popolare rischia di essere però promossa quando le ruspe saranno già in moto sul sito. Il centro-sinistra chiede di cancellare la localizzazione, il project financing e 5 Stelle invece dicono sia revocata la delibera. La centralina invece, siamo a Bellocchi, la centralina rileva già le polveri sottili. I primi dati tranquillizzanti a Bellocchi di Fano, dal 22 marzo il campionamento è completo, adesso manca solo la pubblicazione sul web. Lo schianto che c'è stato tra i due tir sull'autostrada A14 che ha obbligato la chiusura della carreggiata a sud per un tamponamento che c'è stato nella notte e ha provocato un ferito, un 34enne autotrasportatore. Un articolo che troverete sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico di oggi. Aeroporto, rebus proprietà, tre titolari dell'area, gli hangar del comune ma la gestione va a gara. Oggi scade la convenzione con la Fanum Fortuna, in discussione la delibera contro la privatizzazione. E poi sul Fano Jazz by the Sea la voce di Noa terrà a battesimo questo evento che si terrà il 22 di luglio e dal 24 invece otto giorni di musica in piazze, chiese e teatro con interpreti di fama mondiale. Questa è l'altra pagina del Corriere Adriatico, anche qui vedete sulla pagina di Fano del Valle del Cesano invece c'è in evidenza la notizia della frana che ammette a rischio l'ingresso del paese di Isola del Piano. La minoranza accusa il sindaco Paolini di inerzia, di non far nulla, utile la segnalazione alla procura. La lista civica chiede unità di azione con la maggioranza per indurre la provincia ad intervenire. E questa era la pagina di Fano e Valle del Cesano, quella di Senigallia per chiudere, i ladri alla scuola di Ponterio, portati via un cellulare e un po' di spiccioli. I carabinieri sono stati allertati ieri mattina da un'educatrice che si è subito accorta dell'intrusione nel plesso di via Primo Maggio. A centropagini invece si parla di parcheggi al via Petizione Sondaggio, raccolte diverse adesioni per ripristinare i posti auto in Piazza Garibaldi, Sartini, Sonda, gli esercenti. E poi sotto ricorderete, ieri vi abbiamo dato sempre dalla pagina di Senigallia la notizia che un clochard aveva preso a pugni alcune persone. C'è il racconto oggi di Francesca Gresta che è una donna che racconta l'aggressione da parte di questo clochard, un 46enne genovese che vive di espedienti, che da Senigallia è stato caricato su un treno e spedito a Pesaro. Adesso si trova in questi giaglieri, era Pesaro a chiedere le lemosine. L'aggressione invece è avvenuta lungo corso 2 giugno e lei dice io ero con i miei genitori quando questo signore ha chiesto dei soldi, racconta Francesca Gresta, mio padre ha risposto che non ne aveva e lui ha reagito sputando e poi insultandolo e ha messo le mani addosso. Tutti finiti poi in ospedale, compreso il mendicante, lo vedete in questa fotografia con i carabinieri in un corridoio del pronto soccorso di Senigallia. L'informazione dei giornali, l'occhio ai giornali finisce qui, noi ci rivediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata a tutti, arrivederci. Buona giornata a tutti, arrivederci.